Grazie ragazzi, sono Desiree, grazie per gli iscritti, tutti, grazie, se sei nuovo iscriviti al canale e metti il like, oggi faremo una banjur, al mondo nostro, iniziamo! Allora si serve la colla, poi un palloncino, un filo, un cerchio e dentro un del poco d'acqua, iniziamo dalla colla. Grazie. Ok, dopo aver messo la colla e poi girato, prendiamo il filo, il filo e lo mettiamo attorno. Iniziamo! Adesso lo mettiamo... Stavo cadendo là sopra... ... 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 Masca. Adesso ragazzi, aspettiamo ancora un pochino e intanto... Allora ragazzi, abbiamo messo tutto in fila e aspettiamo asciugare. Ciao! Allora ragazzi, aspettiamo. Allora ragazzi, aspettiamo. Allora ragazzi, aspettiamo. Allora ragazzi, aspettiamo. Allora ragazzi. Allora ragazzi. Allora ragazzi. Allora ragazzi.